Yasmina... Yasmina Sadeik. E dica ad Henry di passare da me. Devo parlare con lui a proposito... del libro di Fabri. Vale qualcosa? Sì, sì, l'ho letto. Perché oggi non vieni a pranzo da me al cottage, Nicolà? Così ne parliamo. Sì, a luna. Ci vediamo lì. Mi hai stupito. Sei riuscito veramente a sorprendermi. Hai saputo descrivere l'amore con una grazia straordinaria. Hai scritto un libro davvero notevole, Nicolà. Sotto tutti gli aspetti è uno dei migliori romanzi... che abbia letto negli ultimi anni. Sei riuscito a riportare alla vita la Tunisi che conoscevo. E sei stato lì soltanto pochi mesi. I miei complimenti. Continua, dimmi di più. Io adoro i complimenti. Di più? Non c'è molto di più da dire. Tutto funziona a meraviglia nel tuo libro. Ogni cosa. Soprattutto il personaggio della ragazza tunisina, direi, è decisamente commovente. A me puoi anche rivelarlo. È un personaggio completamente inventato o ti sei ispirato a qualcuno che hai conosciuto lì? Che importanza può avere? I personaggi di una storia vivono e muoiono. Il loro solo scopo è servire al racconto. È questa la tua definizione di un buon romanzo? È buona come tanti altri. Te ne voglio dare un'altra. La definizione di un editore. Un buon libro è una bomba a orologeria e finisce inevitabilmente per esploderti in piena faccia. Sempre che sia un successo oppure un fiasco. Edward, voglio cambiare l'editore per la Francia. Vuoi lasciare?